quando non fui più martirato dagli interrogatori e non ebbi più nulla che occupasse le mie giornate allora sentii amaramente il peso della solitudine ben mi si permise che io avesse una bibbia e il dante ben mi fu messa a mia disposizione dal custode la sua biblioteca consistente in alcuni romanzi di scudeli del piazzi e peggio ma il mio spirito era troppo agitato dal potersi applicare a qualsiasi lettura imparava ogni giorno un canto di dante a memoria e questo esercizio era tuttavia sin macchinale che io lo faceva pensando meno a quei versi che ai casi miei lo stesso mi avveniva leggendo altre cose eccettuato alcune volte qualche passo della bibbia questo divino libro che io aveva sempre amato molto anche quando pariammi da essere incredulo veniva ora da me studiato con più rispetto che mai se non che adonta del buon volere spessissimo io leggea con la mente ad altro e non capiva a poco a poco divenne capace di meditarvi più fortemente e di sempre meglio gustarlo si fatta lettura non mi diede mai la minima disposizione alla bacchettoneria cioè a quella divozione malintesa che rende pusillanime ufanatico bensì mi insegnava ad amar dio e gli uomini a bramare sempre più il regno della giustizia ad abborrire l'iniquità perdonando gli iniqui il cristianesimo invece di disfare in me ciò che la filosofia poteva avervi fatto di buono lo confermava lo avvalorava di ragioni più alte più potenti un giorno avendo letto che bisogna pregare incessantemente e che il vero pregare non è borbottare molte parole alla guisa dei pagani ma adorar dio con semplicità si in parole si in azioni e fare che le une e le altre siano l'adempimento del suo santo volere mi propose di cominciare davvero quell'incessante preghiera cioè di non permettermi più neppure un pensiero che non fosse animato dal desiderio di conformarmi ai decreti di dio le formule di preghiera da me recitate in adorazione furono sempre poche non dà per disprezzo che anzi le credo salutarissime a chi più a chi meno per fermare l'attenzione nel culto ma perché io mi sento così fatto a non essere capace di recitarne molte senza vagare in distrazioni e porre l'idea del culto in oblio l'intento di stare di continuo alla presenza di dio invece di essere un faticoso sforzo della mente era un soggetto di tremore era per me suavissima cosa non dimenticando che dio è sempre vicino a noi che gli è in noi o piuttosto che noi siamo in esso la solitudine perdeva ogni giorno più il suo orrore per me non sono io in ottima compagnia? mi andavo dicendo e mi reserenava e canterellava e zuffolava con piacere e con tenerezza ebbene pensai non avrebbe potuto venirmi una febbre e portarmi in sepoltura tutti i miei cari che si sarebbero abbandonati al pianto perdendomi avrebbero pure acquistato a poco a poco la forza di rassegnarsi alla mia mancanza invece ad una tomba mi divorò una prigione leggeo credere che dio non li munisca di qual forza il mio cuore alzava i più ferviti voti per loro talvolta con qualche lagrima ma le lagrime stesse erano miste di dolcezza io aveva piena fede che dio sosterrebbe loro e me non mi sono ingannato il vivere libero è assai più bello del vivere in carcere chi ne dubita eppure anche nell'emisario di un carcere quando ivi si pensa che dio è presente che le gioie del mondo sono fugaci che il vero bene sta nella coscienza e non negli oggetti esteriori possi con piacere sentire la vita io in meno di un mese avea pigliato non dirò perfettamente ma in comportevole guisa il mio partito vidi che non volendo commettere l'indegnazione di comprare l'impunità colprocacciare la rovina altrui la mia sorte non poteva essere se non il patibolo o una lunga prigionia era necessità adattarvisi respirerò finché mi lasciano fiato dissi e quando me lo torranno farò come tutti i malati allora che sono giunti all'ultimo momento morrò mi studiava di non gagnarmi di nulla e di dare all'anima mia tutti i godimenti possibili il più consueto godimento si era di andarmi rinnovando l'enumerazione dei beni che avevano abbellito i miei giorni un ottimo padre un'ottima madre fratelli e sorelle eccellenti itali e itali amici una buona educazione l'amore delle lettere eccetera chi più di me era stato dotato di felicità perché non ringraziarne il dio sebbene ora mi fosse temprata dalla sventura talora facendo quell'enumerazione mi inteneriva e piangeva un istante ma il coraggio e la letizia tornavano fin da primi giorni io avevo acquistato un amico non era il custode non alcuno dei secondini non alcuno dei signori processanti parlo peraltro di una creatura umana chi era? un fanciullo sordo e muto di cinque o sei anni il padre e la madre erano ladroni e la legge li aveva colpiti il misero orfanello viveva mantenuto dalla polizia con pareti altri fanciulli della stessa condizione abitavano tutti in una stanza in faccia alla mia e a certe ore aprivaci loro la porta affinché uscissero a prendere aria nel cortile il sordo e muto veniva sotto la mia finestra e mi sorrideva e gesticolava io gli gettava un bel pezzo di pane e lo prendeva facendo un bel salto di gioia correva ai suoi compagni ne dava a tutti e poi veniva a mangiare la sua porzioncella vicino alla mia finestra esprimendo la sua gratitudine col sorriso dei suoi begli occhi altri fanciulli mi guardavano da lontano ma non ardiano avvicinarsi il sordo muto aveva una gran simpatia per me né già per sola cagione di interesse alcune volte non sapeva che fare del pane che io gli gettava e faceva segni che egli e i suoi compagni avevano mangiato bene e non potevano prendere maggior cibo sai vedea venire un secondino nella mia stanza e gli dava il pane perché me lo restituisse benché nulla aspettasse allora da me e i continuava a ruzzare innanzi alla finestra con una grazia amabilissima godendo che io lo vedessi una volta un secondino permise al fanciullo di entrare nella mia prigione questi appena entrato corse ad abbrazzarmi le gambe mettendo un grido di gioia l'ho presi fra le brazza ed è incredibile il trasporto con cui mi colmava di carezze quanto amore in quella cara animetta come avrei voluto poterlo far educare e salvarlo dall'abiezione in che si trovava non ho mai saputo il suo nome egli stesso non sapeva di averne uno era sempre lieto e non lo vidi mai piangere se non una volta ti fu battuto non so perché dal carceriere cosa strana vivere in luoghi simili sembra il colmo dell'infortunio eppure quel fanciullo aveva certamente tanta felicità quanta possa averne a quell'età il figlio di un principe io facea questa riflessione e imparava che possi rendere l'umore indipendente dal luogo governiamo l'immaginativa e staremo bene quasi dappertutto un giorno presto è passato e quando la sera uno si mette a letto senza fame e senza acuti dolori che importa se quel letto è piuttosto fra mure che si chiamino prigione o fra mura che si chiamino casa o palazzo ottimo ragionamento ma come si fa a governare l'immaginativa io mi provava e ben pareami talvolta di riuscirvi a meraviglia ma altre volte la tirannia trionfava e di un dispettito stupiva della mia debolezza